qualche settimana fa abbiamo acquistato su ebay poi vi lascerò il link in descrizione un nuovo pollaio lo abbiamo rinforzato perché qui tra volpi e faine è una guerra continua abbiamo installato l'apertura automatica dopo farò vedere come funziona ce l'abbiamo già da un annetto sono molto soddisfatto di questo accessorio ve lo consiglio se non avete voglia di andare ogni sera a chiudere il pollaio abbiamo portato alcune modifiche all'interno abbiamo messo all'interno abbiamo fissato due bastoni per far dormire tranquillamente le nostre galline alla notte abbiamo messo a dimora il pollaio qui abbiamo il programmatore per l'apertura e la chiusura della porta molto molto semplice da utilizzare ci sono quattro programmi in questa versione noi utilizziamo il programma 3 impostiamo l'orario d'apertura l'orario di chiusura potete anche usare il crepuscolare in questa versione qua questo modello costa circa 150 euro ma senza crepuscolare dovreste risparmiare qualche decina di euro pollaio dispone di una comoda cova per le uova dentro abbiamo rinforzato per farle stare di notte appollaiate il bancale sotto è sigillato per l'ingresso di eventuali roditori ci sono le porticine sceniche belle da vedere lo copriremo poi con una tettoia così da preservarmi l'integrità e d'inverno metteremo delle plexiglass lì dove c'è la rete per tenerle al caldo se avete intenzione di comprare un pollaio del genere sappiate che il costo di circa 150 euro contiene fino a cinque galline però ci dovete mettere mano perché dovete rinforzarla se non avete grossi predatori in zona può anche andare bene così ma come nel nostro caso tra faine e volpi dovete rinforzarlo vi ringrazio per la visione nella descrizione vi mettiamo i link per l'acquisto su ebay se vi è piaciuto il video potete condividerlo un saluto a tutti